Una diagnosi di dislessia evolutiva non può essere fatta in maniera canonica prima della fine della seconda primaria. Infatti, occorre aspettare che sia terminato il ciclo dell'istruzione formale e che si sia ridotta quella che chiamiamo variabilità interindividuale, dovuta sia ai diversi ritmi di apprendimento, sia anche a un metodo di insegnamento che comunque può avere la sua influenza durante l'apprendimento. Tuttavia, questo atteggiamento, quindi questa attesa, comporta sicuramente delle conseguenze pratiche, e cioè che soltanto alla fine della seconda primaria si inizia a supporre la probabile esistenza di un disturbo di apprendimento, si avviano quindi tutte le procedure di segnalazione alla famiglia e ai servizi sanitari. E di fatto si arriva poi ad una emissione diagnostica intorno alla classe terza primaria, per poi arrivare ad attuare e a mettere in atto un intervento riabilitativo intorno alla quarta primaria. Questo, però, sappiamo bene, va in contrasto con quello che proviene dalla letteratura relativamente ai fattori prognostici positivi per intervenire proprio nel decorso evolutivo delle difficoltà di apprendimento. Tali fattori risultano essere due. Da un lato, la precocità nell'individuare elementi di rischio. Dall'altro, invece, la tempestività dell'intervento. Questo binomio è sicuramente possibile realizzarlo attraverso quelle che chiamiamo attività di screening, ovvero attività di identificazione precoce del rischio di sviluppare un disturbo di apprendimento. In particolare, attraverso lo SPID, abbiamo cercato proprio di realizzare tale binomio. SPID risponde all'articolo 3 della legge 170, per cui è compito di ogni scuola, di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare interventi tempestivi idonei a individuare casi sospetti di disturbo di apprendimento. Quindi, oltre alla possibilità di identificare bambini che possono presentare un potenziale di rischio nello sviluppo delle abilità di letto-scrittura, SPID è stato proprio pensato per fare in modo di attivare dei laboratori di potenziamento nei bambini risultati essere fragili alla prima somministrazione. Infatti, SPID dà la possibilità di effettuare una prima somministrazione a gennaio e una seconda risomministrazione intorno a maggio-giugno. Questo per vedere anche se il laboratorio ha avuto comunque un effetto e ha prodotto un aumento del bagaglio di conoscenze e delle competenze alfabetiche. E' importante intervenire in maniera precoce su quelle abilità che in quel momento risultano carenti, perché vuol dire dare proprio un'opportunità a quei bambini, perché ignorare comunque una difficoltà o sottovalutarla, poi è possibile che si inneschino meccanismi psicologici negativi, derivati proprio dall'insuccesso che si può provare di fronte alla frustrazione o comunque di fronte ad un insuccesso scolastico. La scuola dell'infanzia, in questo senso, può creare dei veri e propri laboratori, centrati magari su attività relative alle prime competenze alfabetiche. Questo chiaramente non vuol dire anticipare il percorso di insegnamento formale, ma vuol dire cercare di mettere nella condizione più agevole possibile quel bambino che in quel momento risulta essere carente, quindi di farlo familiarizzare il più possibile con la lingua scritta, più di quanto magari non faccia in maniera spontanea. Laboratori che possono essere comunque guidati dalle insegnanti che decideranno se strutturarli a piccolo gruppo, quindi considerando soltanto che i bambini risultati essere a rischio alla prima somministrazione, o magari estenderli all'intero gruppo classe per fare in modo che anche gli altri bambini possano fungere da stimolo. Attività concepite per potenziare appunto le prime competenze alfabetiche, accompagnate perché no anche da giochi metafonologici. Un esempio di attività potrebbe essere quella che prende in considerazione il nome proprio, perché il nome è uno dei primi elementi che i bambini della scuola dell'infanzia comunque imparano a riconoscere. Quindi magari partire dalle lettere del proprio nome per far sperimentare e concepire attività proprio volte alla familiarizzazione della lingua scritta. Speed è uno strumento base dal quale partire, ma lo consideriamo non soltanto come rilevatore di una condizione di rischio, ma anche come uno strumento sul quale può innestare dei percorsi mirati, quindi percorsi proprio di potenziamento. Ci auguriamo anche che la scuola dell'infanzia possa porre attenzione a tutti i bambini naturalmente, ma in maniera particolare a quei bambini ritenuti in quel momento più fragili, che stanno magari vivendo una fase, un momento di vulnerabilità, perché se sottovalutiamo poi questi momenti possono diventare fattori di rischio evolutivo. Grazie. Grazie.